E adesso vi parliamo un po' della fiction Il Segreto ed in particolare lo facciamo per darvi le anticipazioni delle prossime puntate. Dal 06 trattino 10 al dal 10 al 10 partiamo da questo lunedì. Anticipazioni Il Segreto lunedì 6 ottobre 2014. Viene svelato che Raimundu nonostante tutto è ancora follemente innamorato di Francisca, mentre Olmo tanto per cambiare si prende un altro no da soledad. Martedì 7 ottobre 2014. Francisca saputo che Raimundu è ancora innamorato di lei cerca di scoraggiarlo, e per la prima volta, sarà un momento sicuramente epocale. E González svela la sua vera identità a Don Anselo, ossia che in realtà lui è Martin il primo figlio di Pepa Aguir Tristan. Mercoledì 8 ottobre 2014 González, parla nuovamente con il padre Don Anselo e gli svela di sospettare che Tristan possa essere responsabile in quale modo della morte di Pepa Aguir. Giovedì 9 ottobre 2014. Olmo che intando non vuole proprio intendere il no, regala un vestito di valore a Soledad, mentre Fernando sempre più preso da Maria non viene contraccambiato. Anticipazioni il segreto venerdì 10 ottobre 2014 Soledad sempre più intenta a rifiutare le Avanz di Olmo rifiutando il vestito, mentre Maria e González cercano di alfabetizzare la popolazione, Fernando confessa al padre di essere il responsabile dell'aborto di Natalia. Grazie a tutti.